La Val Sessera vuole un medico in più ed in poco tempo i nuovi comuni della Valle hanno avviato una raccolta di firme e sono arrivati a quota mille. C'è stata un'ottima risposta da parte della popolazione perché non è possibile lasciare un territorio senza servizio sanitario. Nei giorni scorsi ha anche avuto luogo un incontro con la SL di Vercelli che però non ha portato a nulla di positivo. Ora i sindaci stanno aspettando una risposta dalla regione per incontrare l'assessore regionale, i cardi e presentargli la situazione. L'attenzione sul tema è alta, sottolinea il sindaco Gianmatteo Passuello. La popolazione ha capito bene qual è il problema. Andremo fino in fondo alla questione. Sono tante le persone che sono rimaste senza medico e devono fare chilometri per avere una ricetta. La regione si era detta disposta a farci incontrare un dirigente del settore sanità per l'assenza dell'assessore. Ma noi interessa andare a parlare direttamente con il responsabile della sanità regionale e arrivare a una soluzione di un problema che interessa centinaia di persone.